Oggi vi voglio parlare ancora una volta di coronavirus e dell'importanza della comunicazione corretta. Nell'epoca del coronavirus, infatti, è necessario saper comunicare. Questo termine ha un'etimologia affascinante, ricca di significato. Comunicare arriva da comunicare, che vuol dire mettere in comune, e più specificatamente mettere un valore al servizio di qualcuno. Ovvero, chi comunica deve riuscire a trasmettere il messaggio nel modo più comprensivo possibile, facendo diventare quel concetto patrimonio comune. Dunque, se qualche italiano non ha compreso l'importanza di stare a casa, a mio avviso, è perché il messaggio non è arrivato nella maniera corretta. Mario Lavi, a proposito della comunicazione di Conte, precisa sull'inchiesta nel sottotitolo di un interessante articolo uscito il 21 marzo 2020. La comunicazione, adesso, è persino più importante della politica, perché può e deve coprirne i ritardi, senza essere per questo inganno o demagogia. Procedere con i si deve, con le fonti di Palazzo Chigi dicono che non è serio, non è tollerabile e non è efficace. Poi, all'interno dell'articolo, Lavi aggiunge il governo deve prendere nelle sue mani il filo della comunicazione con l'opinione pubblica nazionale. Non si può affidare alla mesta conferenza stampa del signor Borrelli e del medico di turno un appuntamento, per carità, svolto alla meglio, ma totalmente privo di forza, di messaggio, di indicazioni. Non c'è il rapporto con il Paese. Come minimo, a fianco di Borrelli, precisa ancora Lavia, a fianco di Borrelli e Brusaferro, dovrebbe esserci ogni giorno il Presidente del Consiglio, un Ministro di primo livello, in grado di fornire un quadro generale, sensato e coerente. E poi propone una soluzione Lavia. dice che bisogna parlare alla gente, soprattutto ai giovani, mediante i loro idoli, come per esempio i calciatori, i cantanti, i motivatori, o perché no, gli influencer. Ma questo tipo di comunicazione dovrebbe essere istituzionalizzata, cioè portata all'interno delle istituzioni. Non si possono applicare i metodi comunicativi cinesi nel nostro Paese. E vi spiego perché. Ora si dice, gli italiani non capiscono, gli italiani sono indisciplinati, ma io mi spingo oltre. E dico, gli italiani non sono cinesi. E so che questa affermazione farà molto discutere, perché ognuno potrebbe leggere nelle mie parole ciò che vuole. E sarò dunque ancora più precisa. Gli italiani non hanno la cultura del popolo cinese, non perché siano indisciplinati, ma perché sono occidentali, siamo occidentali. E quindi è un fatto culturale. Ne parla molto bene il docente Filippo Mignini all'Huffington Post, quando dice i cinesi percepiscono l'individuo come parte del tutto. Dalla comunità discende l'esistenza anche del singolo. Viceversa, noi non consideriamo il tutto come somma di ogni singola parte. È sul singolo che si costruisce la nostra idea di popolo, che non è altro che l'insieme delle nostre individualità. Mignini afferma inoltre che il cinesi ha alle spalle 2400 anni di confucianesimo, una cultura ripresa anche dall'attuale Partito Comunista, che insegna un acuto senso della responsabilità sociale. Al contrario, e non è che questo è meno importante, quindi sia e debba essere considerato negativo, siamo diversi. È tutto qui, siamo diversi. Noi abbiamo dietro una filosofia che si è mossa nella direzione di una forte maturazione della dimensione individuale. Quindi, chi scrive i discorsi del premier dovrebbe tener conto di questa sostanziale differenza. Ma non solo. Anche le strategie dovrebbero essere diverse. Gli italiani dovrebbero sentirsi valorizzati prima di tutto come individui e non come popolo, perché ragioniamo in modo individualistico. Massimo, come famiglia, ma non come popolo, non come comunità. Di conseguenza, la comunicazione deve partire da questo, perché non è che la rivoluzione la possiamo fare nel giro di un mese. Quindi, bisogna partire da questo concetto per scrivere e creare una comunicazione quanto più esaustiva ed efficace possibile. Una comunicazione, quindi, che dovrebbe essere affidata a chi davvero riesce a smuovere le coscienze, anche con discorsi motivazionali, partendo da argomenti che magari fanno più presa, soprattutto negli adolescenti, i quali sono più votati a trasgredire, proprio per motivi inconsci, quindi legati all'età, e affidando quindi la comunicazione, ovviamente non di aspetti tecnici, ed economici, questo spetta a chi è competente, però affidando la comunicazione a persone che sono più vicine agli italiani, come sta facendo un po' Sky TG24. Dovrebbe fare la stessa cosa anche il governo, in maniera più massiccia ed esaustiva, soprattutto mediante i social, come per esempio Instagram, dove si concentrano i giovani, la maggior parte dei giovani sono su Instagram. Ecco, questo è il mio parere sulla comunicazione istituzionale. A presto.